Ci troviamo nella sala consigliare della città metropolitana di Genova e qui a inizio musica nei musei non solo, ventunesima edizione. Siamo presenti malgrado questo periodo di emergenza ma la musica non può finire e noi cerchiamo di dare attraverso la musica la speranza che tutti noi dobbiamo avere in questo particolare momento. Questo è il primo appuntamento della nostra stagione e questa stagione è stata resa possibile per il sostegno e il contributo di Regione Liguria e Comune di Genova. Volevo anche ringraziare la città metropolitana che ci ospita, che ci ha patrocinato questo primo intervento e vi diamo appuntamento poi con gli altri incontri che ci saranno il 20 di dicembre in diretta streaming all'Albergo dei Poveri e il 6 di gennaio a Santa Maria del Prato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.